Il Newton è l'unità di misura della forza. La sua definizione deriva dalla seconda legge di Newton. Newton uguale chilogrammo, la massa, per l'accelerazione, quindi per metro al secondo quadrato. Un Newton uguale un chilogrammo per un metro al secondo quadrato. Un Newton è il valore di quella forza totale, che applicata a una massa di un chilo, produce su questa massa un'accelerazione di un metro al secondo quadrato.